Minecraft, ma ogni 5 minuti diventeremo dei blocchi Ancora non sappiamo quali blocchi diventeremo Ovviamente siamo con io e Freddy's Allora, iniziamo, ok? Sbrighiamoci, prendiamo la legna E non perdiamo tempo Tra l'altro, sapete cosa ho notato? Che oggi Krukko è più intelligente del solito Perché mi aveva detto che aveva scoperto un metodo Per calcolare due numeri Senza il bisogno del più Krukko, illuminaci Allora, immagina, provi a immaginare Un 2 e un 2, tu li vuoi unire Sì Perché vuoi un numero più alto Quindi provi a immaginare senza pensare al più Eh 2 Oddio, come fai? 22 Siamo immaginazione, non devi pensare al più Devi solo pensare che il numero deve essere più grande Quindi, e quindi se tipo 2 e 2 Se devi metterli insieme fanno 4 Esatto Assurdo, cioè ragazzi avete visto? Krukko è incredibile Cioè come fai a sapere queste cose? Ma io veramente dico ma Chi abbiamo negli FRZ? Krukko, veramente incredibile Però una cosa Eh Se non vogliamo proprio mettere più Facciamo 2 per 2 Viene sempre 4 Ascolta, non voglio trasformare questo episodio In un episodio dove parliamo di matematica Perché già schippano il video, hai capito Zoe? Quindi parliamo di altro Parliamo delle Parliamo delle Big Bubu No Perché non sapevo? Non è inerente È opportuno E comunque Ma diventeremo dei blocchi? Cosa significa? Che cosa potremmo fare? Sì E tu I tuoi genitori non ti riconosceranno più Ryan Ma in che senso? Esatto Se Ryan diventerà un dispenser O sarà sempre con la bocca tipo sfelice Se Oppure diventerà tipo con la bocca Non lo so Oppure se Ma sarà anche un observer Quindi tipo quelli che hanno la faccia senissima E magari potrebbero vederti in una maniera diversa I tuoi genitori Ryan Mi guarderanno malissimo No è finita È per come tu li guarderai male In caso se fossi un observer Immaginate gli observer ragazzi Ve lo ricordate? La texture Gli observer Sono quelli che hanno tipo Lo sguardo che guardano da qualche parte E sono sempre così Tipo serissimi E se Ryan diventa quello Diventerebbe l'opposto del suo carattere Oh no è finita Non va bene questa cosa Ryan E tu devi E tu devi seguire il tuo carattere Cambiare carattere Ryan non sarei più la persona Sincera E come si dice Generosa Esatto Esatto Diventerei uno schifo Ryan Uno schifo No Oppure Non lo so Se Elux Diventerà Un uovo Oh mio dio Che uovo potrebbe diventare Quello di Drago Eh? Che c'è? E che fanno le uova? Scusa Ma che fanno le uova? Uova È carbonara Frittata Si rompono E si mangiano C'è quello dell'Ender Drago Quello non si rompe facilmente È vero Quello non si rompe È vero Oddio Oddio Amici Ragazzi La vostra Miglior Carbonale No Va bene Faremo la carbonara Con il bacon Cosa? Sto scherzando Sto scherzando Sì Con la pancetta Con la pancetta Va bene Ah no Ah no Cosa ci mette insieme Nella carbonara Ah cacchio Scusate Scusa Crucco Ti tengo d'occhio Vabbè Crucco E' anche uno chef Esatto Io so Tutto di tutto 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 Di cucina Di Di Carlo Cracco Di Sono famosissimo Sono uno chef Sei un chef Uno chef Sei un chef Sei un chef Comunque ragazzi Vi rendete conto Stiamo facendo la nostra casa Ok Ma questa casa Magari potremmo diventare anche noi Dei blocchi di questa casa Se ci pensate Oddio Potremmo diventare più Se il muro diventa una stone Potrebbe diventare un muro No un attimo E io parlerò con il muro Che succede Noi unissimi liquidi Che succede Che senso Noi diventassimo dei liquidi Tipo dell'acqua Eh potremmo Eh tipo Non lo so Eh di sicuro Elox inizierebbe a sfidare tutti quanti Come fa al suo solito Per chi magari Non lo so Riesce a trattenere l'apnea Dentro di lui È un'ottima idea Esatto sì Vediamo quanto riesce a respirare Dentro di me Che già tipo detta così È molto strana come cosa Che schifo È tutto sbagliato Io vorrei essere una libreria Chissà quanta roba Cinque minuti Imparo Cinque minuti Ciao Tre Due Uno Wow Eh Oddio Oh no Chi sei tu Chi sei tu Oh no Oh ci sono Ferrezzetta Ah no Mi sa che non c'è nessun blocco questo Aspetta un attimo Ah siete qua dietro voi Ciao ragazzi Ciao Ma chi è un bello Ma chi è Aspetta Io so questo qua Mi con bloc sono io Ah ok Ah io sono Io sono un uomo Ah sono io l'uomo Cavolo Sei un uomo Viene qua 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 No Ma è un blocco modato Aspetta ma sembra tipo un portale È un portale diventato Elux Sì Wow Comunque ognuno di noi ha delle caratteristiche Non diventiamo solamente dei blocchi insignificanti Va bene Ad esempio Io posso far luce ovunque Ho delle torce infinite Figo Esatto Poi Chi c'è Poi c'è Aia fammi vedere Mi fate alzare Ok Raga dovete andarvene via Siamo del blocco Sì aspetta Poi Allora Che abbiamo Oddio Eh Grucco tu che caratteristica c'hai Attila gli ender Guarda che posso Oddio Ma sei stupid No ragazzi Zoe è un diamante Dove non proteggere l'estra preziosa per noi Aspetta Ok Uccidilo Uccidilo Perché non muore Dove è andato Non lo vedo Eccolo Dai 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 Ma quanto è veloce Mamma mia quanto è veloce Mamma mia Guarda proprio Assatanato questo enderman Dai E muori male Mamma mia Oh ma incredibile Non muore veramente Hai morto Oh bravissimo Perfetto Lo piazzerò qui Ok Poi chi Aspetta Quindi Grucco praticamente sfana i tizi Tu sei un pazzo Grucco non devi sfana sti cosi però tu stupidi idiota Mi hai scappato era curiosità Ok Poi abbiamo Vabbè il diamante non serve a nulla se non che sei preziosa e dobbiamo tenerti custodita Erox tu cosa che fai Erox tu cosa che fai Amore Mi hai trasportato me Che cosa Che cosa Vabbè Che posso fare Aspetta Io sono Dinamite Si Non ci credo Oddio puoi aiutarci a troverete una miniera Scava Scava di sotto Scava di sotto Scava di sotto Sento come una talpa Vuoi lasciare un creeper Vendi Ryan È diventata una talpa Ryan Eh sì Vabbè Ryan Oddio E raga Siamo ritornati da poco dal video quello dei Dei youtuber Oh E 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 Ragazzi ma io mi inizio in un modo assurdo Ho trovato un diamante Ho trovato un diamante Abbiamo trovato il diamante No Ah non è un diamante Ai 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 Ma che vale Dai andiamo a vedere di sotto Adesso ho le luci Vai 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 andiamo andiamo Faccio luce io Venite Attento a non esplodere di nuovo Perché sono fatto di vetro Eh Ragazzi Sì Posso trasportarmi Sono un nuovo Di drago io È figo Mi sto per rompere Come ti stai per rompere Come ti stai per rompere Sì Oddio ma qui sono Degli zombie Ucciderò io Oddio aspetta Non vedo più niente Amici miei Ciao Ma non mi abbraccio Aiuto Oddio sarei trazzato Dentro il portale Di elux Ciao fuck Direi tra зallai Con Ab audiobooks A presto CheVE A presto werden Demospiro Di liquor Vi Wie Vi